buongiorno buongiorno a tutti e bentornati qui su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per news build guide e live quando ho sbattimento di farle dei vostri giochi preferiti e tra non molto anche di moto a quanto pare perché ho deciso di intraprendere un nuovo percorso qui sul canale delle mie passioni chiaramente quindi tornando invece ai videogiochi che cosa aspettarci da activision blizzard tra in realtà due settimane perché il 19 ci sarà il classico blitzkong che ovviamente sarà online e quindi dovevamo aspettarci le novità soprattutto per diablo 4 e overwatch 2 e invece ci hanno tirato una pugnalata al cuore ma andiamo con ordine quando nel 2018 erano saliti su il palco i rappresentanti di blizzard in cui dovevano annunciare chiaramente l'arrivo di un nuovo diablo nessuno si aspettava che ovviamente doveva essere diablo immortal quel cesso per cellulari che potevano evitarsi ma a quanto pare invece blizzard lo sta pian pianino aggiornando e rilasciando sempre più giocatori e quindi ce lo becchiamo e ce lo teniamo ma un anno dopo nel 2019 finalmente activision blizzard ha annunciato specialmente che diablo 4 era in fase di sviluppo con ovviamente grande sollievo di tutti i fan presenti me compreso ovviamente il prodotto tanto atteso ha entusiasmato ancora una volta i fan per un nuovo gioco di diablo che arrivato da diablo 3 nel 2013 ovviamente sono almeno sei anni di sviluppo quindi si pensava che nel 2021 quindi con il settimo e l'ottavo anno di sviluppo all'ottavo anno si sarebbe potuto rilasciare diablo 4 sono stati il nostro caro erc nonché molti altri hanno provato si trovano ancora i video online di chi l'ha potuto provare in anteprima diablo 4 con tutto lo stupore che c'è stato e nel tempo blizzard inoltre ogni tre mesi va ad aggiornare e a dare tutte le news che io porto anche qua sul canale per tutte le novità che stanno rilasciando su diablo 4 quindi in realtà il gioco sta continuando a essere ampliato e sviluppato modificato ampliato e sviluppato modificato ampliato sviluppato e via così ogni tre mesi in pratica ci sono delle modifiche precedenti a quello che hanno rilasciato precedentemente più nuovi aggiornamenti su quello che noi avremo è una figata pazzesca quindi ci si aspettava che in questo blitzkong nel 2021 chiaramente venisse annunciato diablo 4 e anche overwatch 2 ma a quanto pare giovedì quindi è stato il 3 se non erro questo video dovrebbe uscire domenica io lo sto registrando venerdì quindi ieri era il 4 scusatemi il 4 la blizzard ha semplicemente detto che diablo 4 e overwatch 2 stanno avendo dei grossi rallentamenti e di conseguenza la previsione che escano nel 2021 è sfumata totalmente ora è questa qui è una pugnalata al cuore enorme anche perché io diablo 4 sinceramente lo aspettavo con molto molto entusiasmo quindi la data di rilascio o almeno una data di rilascio sicura per diablo 4 è per il 2022 non si sa se ci sarà una vera e propria data di rilascio dataci al blitzkong di quest'anno ma sicuramente è molto più realistico aspettarci all'inizio il primo trimestre del 2022 il rilascio di diablo 4 ora io l'ho sparata magari gli ho dato il bacio della morte non lo so ma comunque io spero che sia nel primo trimestre o comunque entro il secondo trimestre l'uscita di diablo 4 come ultimi invece aggiornamenti per quanto riguarda la blizzard si è parlato di come detto prima diablo immortal che sta continuando i test regionali e che quindi sta rilasciando sempre più giocatori il titolo che non so sinceramente come cazzo si possa giocare un diavolo sul cellulare una presa per il culo comunque sia per quanto riguarda invece world of warcraft shadowlands quanto pare è l'espansione che sta avendo più successo ok quindi è un'espansione di molto successo per quanto riguarda world of warcraft invece overwatch league si sta preparando per la quarta stagione che dovrebbe iniziare nell'aprile quindi ad aprile di quest'anno chiaramente è stato anche annunciato e strano un altro call of duty l'anno prossimo ma va anziché uscirà quest'anno perché siamo nel 2021 quindi un altro call of duty quest'anno quindi sarebbero il terzo io non so più neanche a quanto siamo di call of duty 82 quanti siamo perché io ho giocato il primo poi mi sono rotto i coglioni dopo il secondo perché tutto uguale quanti siamo chi cazzo lo compra ancora sto colo di rotti i coglioni ogni volta ne fanno uno bello 15 brut vabbè comunque sia ne uscirà un'altra di call of duty se lo volete comprare compratele buttate i soldi se no aspettate qualcos'altro di un pochino più decente e niente direi che aspettiamo diablo 4 e overwatch 2 nel 2022 magari con qualche aggiornamento anzi si spera con qualche aggiornamento al blitz con di quest'anno che sarà come detto il 19 febbraio e sarà totalmente online bene io queste news erano giusto per fare un recap di quello che troveremo al blitz con di quest'anno e noi ci vediamo con il prossimo video e gg a tutti quanti